Il Consorzio di Bacino Salerno 1 Il Consorzio di Bacino Salerno 1 L'affastellarsi di dichiarazioni sulla situazione rifiuti ha fatto inalberare comunque i netturbini. Con un comunicato bollano come strumentali le dichiarazioni del responsabile PD della Corte, che ieri aveva avanzato alcune perplessità sulla raccolta rifiuti. Non interessano strumentalizzazioni politiche, scrivono gli operai. A noi interessa che si risolva questa situazione diventata insostenibile. I dipendenti del Consorzio di Bacino inoltre invitano della Corte a recarsi di persona presso il cantiere per rendersi conto degli orari e dei carichi di lavoro, rimarcando che la situazione cittadina è simile in tutto il territorio servito dal Consorzio. Gli operatori ecologici, infine, consci degli disagi causati alla città, precisano che i cittadini hanno sì il diritto a vedere pulite le strade, ma loro hanno il sacrosanto diritto a percepire lo stipendio. Intanto, davanti al rischio che Fabio Siani possa lasciare la gestione del Consorzio all'indomani di un'indagine che lo riguarda, interviene il presidente della provincia Edmondo Cirielli. Capisco l'amarezza di Siani, ha dichiarato, ma deve restare alla guida del Consorzio perché ha lavorato bene.